Allora, adesso che abbiamo praticamente completato smontare tutto l'arcade in questione Abbiamo smontato come avete visto anche i pulsanti Dentro ai pulsanti, ogni singolo pulsante a differenza dell'arcade che non sempre si retroilluminano Nelle slot machine in verità è il contrario Infatti ci sono in ogni slot machine una lampadina halogena da 12V e 2W È veramente molto bassa come portata, quindi è una luce praticamente che è proprio da morto in pratica Il problema è che questi arcade più stanno fermi e più queste lucine si brasano Le luci in questione saranno queste qua Adesso vediamo se riesco Eccole qua Praticamente questa lucina qua è incandescenza, molto semplice E la luce che farà uscire fuori sarà praticamente come vedete questa Non è niente di che Certo si illumina ma non più di tanto Cioè il verde si vede malissimo Il giallo ok, ci siamo ancora Il rosso, eh il rosso anche lui funziona bene E mentre io volevo cambiare queste luci con delle lampade a led Che anche queste entrano senza problemi Sono lampade che adesso vi faccio capire la portata di luce Ecco questa è la luce invece che fanno È il verde già tutt'altra cosa come vedete È bello luminoso e pimpante Poi abbiamo il rosso, che luce il rosso E abbiamo anche il giallo che è Cioè guardate che brillore che abbiamo Cioè è tutt'altra cosa queste luci E infatti come vedete sono semplici Led a catacolo freddo Quindi non scaldano per niente E in più questo è 0,01 watt In confronto ai 2 watt di queste lampadine Bene, direi di proseguire pulendo tutto l'arcade Ok, ora siamo qui per fare un'altra prova Come vi ricordo dalla precedente puntata O questa, non mi ricordo di preciso anche perché poi verrà tutto montato in diverse puntate Abbiamo mostrato questo switcher Che praticamente permette il campionamento di diverse tensioni Che siano 12 volte o che siano 5 volte in diversi amperaggi E ci permette appunto di smistarle Questo sarà molto utile se questo funziona Ma non lo sappiamo perché appunto aveva detto il proprietario che non si accende Però intende l'arcade Non il nostro switcher Funzionerà, esploderà Se vedete le luci che si spengono a un certo punto Vuol dire che è saltato Mentre se rimane acceso e si accende in teoria il led rosso in alto Vuol dire che funziona Proviamo Ho abbastanza paura Funziona È rosso Non fa rumori strani Bene Lo switcher funziona Quindi possiamo escludere l'alimentazione Lo switcher sappiamo che funziona Possiamo utilizzarlo benissimo per fare il nostro progetto Ok ci siamo Adesso che abbiamo i nostri pulsanti Adesso passeremo al ciclo di pulizia completa Li dovremo andare a immergere all'interno della nostra acqua Però mi raccomando ragazzi Togliete i contatti e ovviamente anche le luci Altrimenti succederà che appena collegate farete un bellissimo fuoco d'artificio Adesso mettiamo giù dell'acqua Magari un po' più piano Ok Inoltre dobbiamo prendere una soluzione di base di sgrassatore e candeggina Si avete capito bene Sgrassatore perché appunto toglierà tutto lo sporco Lo schifo che c'è sopra questi tasti Mentre la candeggina andrà anche a pulire e a disinfettare Anche perché non sappiamo detto sinceramente dove sono finiti questi tasti Ma già dall'odore che ha la macchinetta e tutto Capisco che era un luogo di fumatori Molto fumatori Quindi andiamo a immergerli Andiamo a mettere la soluzione di candeggina e sgrassatore Con questa qui E li lasciamo immersi e a riposo Ogni tanto li muoveremo magari con un qualcosa Però comunque muoveteli in modo che si purificano per bene E che si puliscano soprattutto i vari tasti Allora non so se si può notare Ma si sta creando un alone Adesso aumentando ancora il più liso si nota Sta uscendo un alone giallo dai tasti Che credo che sia tutto lo sporco annidato Negli anni in questi pulsanti Che poi c'è un odore anche di mezzo fumo Mezzo andato a male per farvi capire Quindi deduco che sta funzionando la soluzione E lasciamoli ancora riposare Ogni tanto comunque come ho detto prima Spostateli così si puliscono un po' di più Ora sotto risciacquo continuo dell'acqua Andremo a pulire ogni singolo tasto In quanto appunto dobbiamo andare a ripulire da ogni residuo Che sia l'ammoniaca o che sia il nostro sgrassatore Appunto non deve rimanere più nessun residuo E detto sinceramente Già sembrano dei nuovi tasti In confronto a prima che facevano proprio schifo E in più andiamo anche a recuperare tutti i nostri anelli Fidatevi che l'acqua che c'era prima All'interno di questo contenitore Era nera e gialla Tra parentesi Era un colore un po' strano E quello probabilmente dovuto a dove era appunto prima Che sia causa fumo o altro Quindi una volta che adesso avremo i nostri pulsanti pronti Li lasceremo riposare per un po' Faremo scorrere tutta l'acqua E poi li andremo a rimontare All'interno di questo contenitore